Che mi consigli di buono in questo ristorante? Tutto. Ma hanno una vitella che in tutta New York non la trovi. Allora vitella per me. Capito. Scusate se ora parliamo un poco io e Mike. Senza. Mi dispiace. Lo so. Tu a sapere che quello che successe tra me e tuo padre fu una cosa di business. Io ho un grande rispetto per tuo padre. Ma tuo padre, pensa all'antica. E tu non vuole capire che io sogno un uomo d'onore. Non mi devi dire. Sti cose. Le so già. E sai. E... E tu a sapere che io ho aiutato la famiglia d'Attaglia. Io credo che... Andiamo a mettere d'accordo. Io voglio pace. E lassiamo perdere con tutte ste cazzate. Beh, ma non è facile. Che cosa non è facile? Mettere se d'accordo? Come si dice, la pace bisogna volerlo in due. Quello che mi preme. La cosa più importante per me... è di avere garanzie. Niente più aggressione contro mio padre, chiaro? Ma quale garanzia ti posso dare, Mike? Io sto più in pericolo di lui. Tu mi vedi più di quello che sogno. L'occasione me la sono persa. Il colpo l'ho fallito. L'unica cosa che voglio è una tregua. Capisci? Devo andare un momento al bagno. Avete niente di contrario? Beh, quando scappa, scappa. Aspetta. L'ho frugato io, è pulito? Vama, special. Ne ho frugati migliaia di quei bici a sotto. L'ho frugato io, è l'ho frugato io, è l'ho frugato io. Ti senti meglio? Michalazzo, tu me capisci, no? Sei italiano, come a tuo padre, come a me. Tuo padre sta male. Va bene, starà meglio. Cerchiamo di fare un meeting. E mettiamo tutto a posto. Questo contrasto non va a finire. Dico bene, no? Dico bene, no? Dico bene... Grazie.